Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti all'appuntamento imperdibile appena prima della semifinale dei mondiali che ormai insomma l'Italia non c'è ma siamo tutti non lo so in intenzione lo stesso che tra l'altro inizia se non sbaglio proprio in concomitanza col FOMC giusto alle 8 inizia la partita e noi ovviamente siamo qui invece per il FOMC perché da bravi malati c'è chi aspetta il Natale c'è chi aspetta appunto la semifinale dei mondiali c'è chi segue no tutte queste cose noi invece no noi aspettiamo il CPI aspettiamo il FOMC siamo veramente ragazzi messi malissimo malissimo comunque siamo qui con Massi e Matte i nostri formatori proprio per come che ormai appuntamento di tutti i mercoledì non so se l'avete notato per questa live a tre teste dove andiamo ad analizzare come sempre le notizie più importanti e la situazione di mercato che ci si para davanti oggi la notizia del giorno come dicevamo è proprio il FOMC l'appuntamento della Fed che deciderà il rialzo dei tassi che a questo giro come vedete anche dal grafico stesso no che insomma parla abbastanza chiaro ci stiamo avvicinando a tale appuntamento con abbastanza euforia adesso parlare di euforia in un contesto come quello attuale è assolutamente non so un eufemismo oserei dire un qualcosa di completamente esagerato ma se guardiamo la price action e vediamo come abbiamo anche bucato a rialzo tra ieri e oggi la resistenza di brevissimo del range nel quale ci trovavamo troviamo post ftx come vedete qua abbiamo l'evento no il il dump la leg down causata dal crollo di ftx che ci ha lasciato stagnanti poi all'interno di questo range 15.500 17.000 e 6 circa l'evento che diciamo ha iniziato ha innescato questo leggerissimo rialzo questo respiro possiamo chiamarlo sono stati i dati sull'inflazione americana che sono usciti proprio ieri oggi c'è il fom che ieri c'era il cpi alle 14 30 italiane e sono stati dati migliori del previsto tra l'altro se li vogliamo anche andare a vedere ve li ho condivisi anche su telegram parentesi vi consiglio se già non lo fate di seguirci anche su telegram dove condividiamo in tempo reale tutte le notizie più importanti che muovono i mercati e le cose insomma da sapere nel mondo cripto perché come sappiamo insomma essere sul pezzo è la cosa più importante in assoluto guardate abbiamo un altro mese di ribasso dell'inflazione 7.1 per cento year over year quindi rispetto all'anno scorso e la previsione invece era del 7.3 il fatto che l'inflazione è scesa oltre la previsione cioè andato ancora meglio del previsto che già era di discesa ricordiamo era il 7.7 il mese precedente ha fatto reagire i mercati positivamente il nasdaq ha avuto un una candela verde un rialzo e lo stesso chiaramente vale per le cripto oggi c'è il follow up verso appunto il fom che ormai direi è pressoché certo che vada a rialzare i tassi di 50 punti base vista la conferma appunto dell'inflazione di ieri speriamo non facciano sorprese strane perché altrimenti ci rimangiamo tutte le candele con gli interessi allora matte tu che sei il nostro macroeconomista e sei sempre sul pezzo con queste informazioni piccola parentesi tra l'altro il corso di macroeconomia ormai è pronto lo so che sta diventando come un aspettando godò per voi ma credeteci arriverà e arriverà di qualità eccelsa perché le cose belle richiedono tempo di preparazione il nostro matte ce lo sta veramente dedicando ti chiedo come come vedi questa situazione cosa ti aspetti dal fom che di oggi immagino ti aspetterai 50 punti base e a questo punto se rivedi no la i prospetti macroeconomici per i mesi futuri e magari l'inizio del 2023 alla luce di questi ultimi dati sull'inflazione migliori appunto del previsto allora in realtà c'è da fare una precisazione nel senso che è vero che i dati stanno iniziando a dimostrare un rallentamento dal punto di vista del dell'inflazione ma in particolar modo il settore dell'energia ha avuto un un importante calo anche gli immobili e insomma hanno anche loro gli alloggi ha ricevuto un un rallentamento in questo in questo periodo anche il mercato delle macchine usate quindi insomma ci sono degli elementi che ci stanno facendo vedere un'inflazione che va rallentando però bisogna fare attenzione perché essendo calcolato in funzione dei dati precedenti l'inflazione da adesso in avanti andrà a subire quella che è l'effetto base e quindi tenderà ad essere positiva rispetto a quelli che erano i dati precedenti che invece hanno visto un'inflazione galoppante per tutto l'anno precedente quest'anno che sarà poi il riferimento dell'anno successivo quindi non bisogna farsi fregare da da questo aspetto bisogna essere sempre attenti e consapevoli di questo paragone anno su anno dopo di che un altro io personalmente riguardo ad oggi non mi aspetto non prevedo un un dato piuttosto che un altro aspetterò sinceramente quello che sarà il dato ufficiale quindi in base a quello prenderò le mie decisioni e anche in funzione della reazione del prezzo che avrà non oggi quindi non contestualmente con l'uscita del dato che sappiamo essere un dei movimenti volatili che spesso vengono riassorbiti ma la direzionalità che effettivamente prenderà il mercato per capire se questa seconda parte diciamo del del mese di dicembre potrà proseguire con il famoso rally di natale oppure ci potrebbe essere effettivamente un'inversione per quanto riguarda invece l'andamento e la decisione delle politiche monetari che oggi verrà verrà decisa anche per i mesi successivi sarò molto curioso di osservare effettivamente quello che sarà il dot spot che è effettivamente un grafico dove i votanti partecipanti della fed vanno a decidere vanno in maniera anonima a votare quelli che saranno poi le previsioni per i tassi di interesse futuri e quindi grazie a questo a questo grafico questa informazione che esce su base trimestrale ci possiamo rendere conto di qual è l'intenzione dei partecipanti dei membri partecipanti e votanti area i famosi ai famosi form si è la mediana tra questi dati quindi il valore intermedio quello non quello intermedio quello più votato sarà effettivamente importante un indirizzo importante per capire quello che sarà l'andamento nei prossimi nei prossimi mesi e anni se mi vuoi se vuoi che condivida che mi avevi mandato tra l'altro le immagini poco fa giusto per per commentarle uno penso che sia il quel grafico che dicevi no perché vedo proprio un grafico appunti dove i partecipanti appunto al form che vanno a votare il target rate esattamente questo è quello di settembre 22 a breve uscirà quello per i mesi successivi aggiornato ad oggi quindi vedremo anche comparando questi due questi due dati come si è modificata anche la visione dei partecipanti rispetto ai cambiamenti che abbiamo avuto durante questo trimestre quindi il fatto che l'inflazione effettiva vai 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 mi chiedevo quindi di fatto quello la cosa che guarderai di più è la differenza tra questo andamento che correggimi se sbaglio fa vedere negli anni addirittura 2023 24 e 25 la distribuzione dei appunto dell'opinione dei votanti sul fed target rate no che quindi è il tasso di interesse target adesso a quanto siamo 4 quant'è adesso il tasso te lo dico subito dovremmo essere se non mi sbaglio sotto il 4 per sotto il 5 per cento sto andando a cercarlo anch'io nel frattempo che ce lo dice il nostro solito mi sembra calcolatorino con tanto di probabilità allora con tanto di countdown tra l'altro 38 minuti al phone che ragazzi poi mettiamo il grafico un minuto è come di rigore allora siamo a 3 75 400 al momento 4 e col prossimo ecco il prossimo più 50 saremo a 4 25 450 se appunto avremo un più 50 oggi stesso e quindi scusa matte se t'ho interrotto dicevi che al momento dunque 2022 io vedo appunto la distribuzione questo dice via quello di settembre la distribuzione che principalmente va tra il 4 e il 4 e mezzo i votanti appunto al phone che proprio dove stanno adesso esattamente a chiudere il 2022 qua dentro 2023 vedo che si arriva fino anche a 5 sì perché poi di fatto è previsto un altro sono previsti altri due piccoli aumenti nei prossimi due mesi mi ricordo un più 50 di nuovo e poi un altro più 25 che di fatto ci portano diciamo in quella zona di distribuzione lì 5 sì 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 esatto praticamente andremo a vedere nel 2023 una situazione in cui non andranno a modificare particolarmente il tasso quindi lo cercheranno di mantenere tra il 4 e mezzo il 5 per cento probabilmente anche magari qualcosa di meno andando a correggere leggermente con delle piccole variazioni per osservare effettivamente quindi non saranno più così attivi come sono stati durante quest'anno dove hanno effettivamente innalzato in maniera importante rimarranno fermi ad osservare per vedere come si comporta al mercato e ai primi segnali di rottura che sono quelli che sta aspettando Powell che ce l'ha detto un sacco di volte effettivamente potremmo vedere un inizio del taglio dei tassi del taglio dei tassi però questo appunto lo potremo solo vedere in funzione delle risposte che i principali indicatori di deterioramento del mercato che sono quindi l'occupazione e gli earnings da parte delle aziende e il cmp insomma tutti gli indicatori macroeconomici che ci parlano di questi elementi allora lì sapremo che effettivamente la fed inizierà ad intervenire con un pivot ribassista però non è una cosa immediata sarà comunque un processo come vediamo tra l'altro anche da questo da questo grafico non è nel 2023 poi il 2024 scende scende di tassi a zero è una ricrescita graduale certo infatti sì anche nel 2024 si vede come i voti dei vari votanti siano distribuiti da due e mezzo fino fino al 4 e 75 quindi c'è molta incertezza per l'anno 2024 mentre molta certezza per quello che sarà tutto il 2023 probabilmente si manterranno diciamo un anno di stallo proprio per vedere appunto questi dati di cui ci parlare matte esatto per il taglio per il taglio dei tassi se ne parla nel 2024 2023 sarà ancora abbastanza statico infatti sono sono anni interessanti poi per chi vuole appunto prendere eventualmente posizione andare a cercare delle delle aree nodi di di un mercato che è più stagnante che ovvio è noioso purtroppo anche se a volte non si sa più neanche che cosa dire guardando i grafici ogni giorno però è il mercato anche questo non stiamo giocando a un videogame ma di fatto l'economia i mercati funzionano in questo modo allora tiro via adesso l'immagine perché altrimenti qua mi copre su tutto io vedo qualcuno che tra l'altro dice nelle ultime live si parla solo di fed e di ftx ma la defy su arbitrum etereum sta andando alla grande ma infatti ti anticipo che oggi due parole su arbitrum le dobbiamo fare a uno dei topic della live ci aiuterà anche il nostro massi che è lo smanettone colui che approfondisce appunto protocolli e chain perché è vero è vero arbitrum ve lo spoiler ho già visto che ce l'avevo in canna no qua dietro come uno dei topic di cui parlare vi vi butto lì guardate parto con questa bomba proprio che me l'ha fatto notare massi l'altro giorno stavamo facendo una chiacchierata io e lui e mi fa arbitrum ha superato poligon in tvl io ho detto ma cosa stai dicendo mi ha fatto mi ha mandato il link appunto a defy lama e guardate effettivamente è così 1.12 miliardi per arbitrum 1.06 per poligon che io ero abituato a immaginarmi poligon come appunto una delle principali chain per tvl perché di fatto è utilizzatissima no lo sappiamo bene anche noi ma guardate la crescita che ha avuto poligon più 28 per 100 in un mese di tvl e in bear market consideriamo no anche questa cosa che non è assolutamente da mettere in secondo piano e questo tra l'altro mi ha portato a voler analizzare un po di più anche i dati on chain di arbitrum e anche degli altri layer 2 perché pure optimism seppur in misura minore rispetto ad arbitrum è in in calo netto però in calo minore della media in bear market lo sappiamo che la defy tendenzialmente va a prosciugarsi no perché di fatto c'è un'operazione di derisking da parte di molti utenti e molti partecipanti al mercato stesso e tendenzialmente si si puntano alla self custody ad evitare qualsiasi tipo di protocollo è tipico dei bear market no lo sappiamo e quindi cercare no anche qua dei segnali di controtendenze ciò che non si comporta come appunto le masse del il mercato in generale sono dei segnali interessanti da salvarsi no nella mente da tenere in saccoccia e soprattutto da approfondire cioè chiedersi ma perché questo sta accadendo ecco su arbitrum ad esempio guardate questo è il grafico preso da nansen degli address attivi giornalmente quindi è un grafico non cumulativo è un grafico proprio su una finestra temporale di un giorno e delle transazioni giornaliere guardate quella il grafico più scuro perché il grafico chiaro è la spesa in gas parentesi se vi chiedete come mai la spesa in gas scende nonostante il numero di transazioni salga il motivo è l'aggiornamento mi pare si chiami nova di arbitrum che è stato proprio rilasciato quest'estate a cavallo proprio di questo calo repentino delle gas fee e questo aggiornamento di fatto andava a diminuire drasticamente le gas fee sul layer 2 e tra l'altro non è neanche nella sua forma finale no come direbbe sell in dragon ball non è neanche la mia no chi è che lo diceva era sell non mi ricordo ma perché appunto ci sarà anche un altro step ulteriore che gli farà abbassare ancora di più le gas fee ma al di là di tutto vediamo un trend di adozione gigantesco no guidato da uniswap il dex principale che da ethereum sta sempre più migrando i volumi su layer 2 e gmx che di fatto anche lui è il dex di riferimento per perpetual e derivati e questo fa capire no come innanzitutto ci siano alcuni protocolli defi che sono zoccoli duri no lo scambio il trading è un servizio che viene usato a prescindere dalle fasi di mercato no magari in queste fasi ci si va piano con landing con le leve con quei protocolli che implicano debito ma lo scambio il trading il l'andare appunto a fare a fare uno swap tra un token e l'altro un servizio che non dovrebbe risentire ovviamente sì volumi calano in bear market come nei checks ma comunque da un punto di vista di utilità non è che in bull market o in bear market è più o meno utile e diciamo che il trend è sullo spostarsi proprio su layer 2 volante vi faccio vedere anche optimism come pure lui sta seguendo vedete questo trend questo in blu sono il numero di transazioni che anch'esse sono in aumento qui non abbiamo dei protocolli particolarmente come si può dire che cubano più di altri perché vedo che c'è usdc come uno dei top transazioni il resto hanno un quindi uni swap c'è però non mi sembra cosa sono 167 mila transazioni in sette giorni contro le 187 mila no siamo lì è optimism e arbitrum quindi non c'è molta differenza ma sì come la vedi la situazione perché io sinceramente vedo cioè questo trend dei layer 2 è da un po che lo sto seguendo e di fatto io penso che adesso nel anche nel 2023 immaginandomi il 2023 e gli sviluppi che avrà etereum quindi lo sblocco dello staking se tutto va bene a marzo con l'update shanghai tutte queste novità no che stanno uscendo protocolli di defy su strumenti derivati e strutturati che sono sempre più di moda lo spostamento su layer 2 che fa onboarding di più utenti perché fare uno swap su uniswap non ti costa più 50 dollari in gas fee in bull market adesso comunque non li costa neanche su etereum ma attendere ecco stiamo andando verso davvero la scalabilità nessuno se ne sta accorgendo perché non ne vedo parlare tanto ma la scalabilità di etereum sta facendo dei bei passi avanti tu come vedi un po la situazione dei layer 2 e in particolare appunto di arbitrum cosa ti aspetti diciamo nel nel prossimo futuro a riguardo allora dopo la diciamo le grosse comunicazioni vitalic abbiamo visto quanto etereum tenderà a muoversi verticalmente quindi diventerà quasi roll up centrica molti molti dicono e infatti questo si vede adesso etereum sempre di più sembra che diventerà la chain dove vengono registrate le informazioni ma poi il grosso del lavoro verrà scalato sui layer 2 quindi questo già da qualche mese riuscivamo a capirlo e anche a a vederlo quello che sta succedendo su arbitrum secondo me è una situazione molto interessante proprio mettendo a confronto questi due questi due layer 2 optimism e arbitrum vediamo che il grosso dei protocolli si sta spostando su arbitrum ma perché perché gmx attualmente sta comandando l'intero settore DeFi c'è stato secondo me un cambio di trend con tutto il discorso di FTX e le persone sono spaventate a detenere soldi nei checks e quindi a operare su prodotti derivati nei checks di conseguenza si stanno spostando sempre di più verso la DeFi la DeFi che comincia finalmente a essere un po' più matura e a poter permettere appunto anche operazioni un po' più complesse del semplice trading in leva infatti si stanno sviluppando anche tante piattaforme di trading di opzioni come Dopex come oggi ne ho visto un altro che si chiamava Vesta c'è anche Ribbon io avevo studiato un po' Ribbon Ribbon Finance molto interessante sì tanti protocolli diversi stanno portando questa nuova tipologia di protocollo e quindi ora mi viene da chiedermi no ma se optimism che è un layer 2 che ha il suo token e può incentivare diciamo l'utilizzo della propria chain con la sua coin rimane dietro ad arbitrum che invece non ha una chain non ha scusami un token di governance e quindi non incentiva direttamente il farm e l'utilizzo della propria chain perché la prima sta andando così bene e l'unica risposta mi viene per l'appunto come ho detto prima è GMX che con il suo index token GLP che essenzialmente è una sorta di di paniere che contiene all'interno più o meno un 30 per cento bitcoin un 30 per cento ethereum e un 30 per cento stable coin e permette appunto di eseguire operazioni in leva sulla sua piattaforma ora lasciando perdere il token GLP che di default non sarebbe nemmeno questa grande rivoluzione però questo rende la DeFi componibile infatti tanti protocolli diversi stanno strutturando tante operazioni di strategie di farming con questo token sono per esempio Umami Finance se non ricordo male Umami voleva fare in sostanza che ti espone cioè ti compra spot GLP che come hai detto tu appunto è un paniere di queste qui che vedete no etere un bitcoin e stable coin con qualche briciola di chain link e uni non ho capito neanche il perché e poi ti va a shortare se non erro al fine di rimanere delta neutral no perché poi se tu con GLP fai da liquidity provider in GMX perché questo è lo scopo ricordiamo che ovviamente c'è il rischio perché detenere GLP è come appunto essere liquidity provider su GMX e quindi se i trader guadagnano si incassa una perdita perché il funzionamento è quello ma tendenzialmente lo dicono anche le analytics tra l'altro stavo cercando ma ci mette 6 mila anni eccola profit versus loss che di fatto è come funziona il il business model di di GMX va a calcolare il profit and loss dei trader e lo incassa il liquidity provider è come se tu facessi da banco fondamentalmente e però nel frattempo sei esposto ovviamente a tutto questo paniere di coin quindi bisognerebbe shortare fondamentalmente bitcoin ethereum e rimane il rischio ovviamente di esposizione alla defi quindi l'ideale sarebbe includere allo allo stack anche un'assicurazione no non so se se c'è qualche provider l'insurance di l'insurance di turno che magari la dà metti tutto insieme hai un apy netto ed è interessante come idea perché questo rendimento non è dato dall'inflazione di un token no tendenzialmente il trend nella defi non sostenibile era quello di andare a ricompensare i liquidity provider con il token che viene emesso e questo token emesso l'abbiamo visto anche con pancake swap che è il più famoso di tutti il token cake poi ha subito anni di bear market ha avuto un meno 90 e passa per cento anche lui e questo perché appunto andare a ricompensare il liquidity provider con il token che viene stampato di fatto a lungo andare crea della selling pressure crea offerta che va a sovrastare la domanda e il prezzo tendenzialmente scende qui è diverso perché il il liquidity provider ottiene questo ip y questo che adesso non so neanche quantificare sinceramente dovrei andare a vedere gli ultimi dati ma è al 20 per cento su su arbitrum mettendo semplicemente glp in stake ed è in glp stesso no quindi in bitcoin ethereum e stable coin sì esatto è praticamente pagato con le fees che rimangono dai dai trade quindi in funzione dei cose è tradato rimane le fees diciamo pagate con i con i con i suoi scambiati è appunto il trend che secondo me sta partendo in defa cioè che è già partito in realtà da un po che appunto il reality held quindi non è più un più utilizzi la mia mi dai liquidità la mia piattaforma io ti pago col token della mia piattaforma perché ovviamente questo come hai già detto rende il token della piattaforma inflattivo all'ennesima potenza ma va a cercare di generale un ritorno dall'utilizzo di questa piattaforma infatti come dicevo prima umami rage trade neutra finance sono tutte piattaforme che stanno creando delle diverse strategie di trade per glp dando quindi un incentivo alle persone a depositare ad esempio usdc nella loro piattaforma loro creano tutta la strategia la la testano e per ovviamente parte diciamo darti parte delle ricompense se ne prendono una parte per loro quindi praticamente sono degli asset manager esattamente sono sono come degli asset manager e c'è anche un articolo proprio che spiega il funzionamento della cosa se uno volesse farlo per conto suo ne parlavamo l'altro giorno su discord se non mi sbaglio con con filippo è una cosa abbastanza complicata non hanno la fate semplice perché perché le percentuali degli asset in realtà non sono mai fisse non c'è mai un solo 30 per cento di bitcoin ma vanno un po ribilanciate quindi oscilla tra il 25 e il 35 e ovviamente la piattaforma gmx cerca di mantenerle stabili ma non lo sono quasi mai quindi creare una strategia di questo tipo è abbastanza è abbastanza complicato queste piattaforme offrono un modo semplice per tutti per farlo e ovviamente prendono un incentivo per questo è un come dire cioè ricordare ad esempio il il nella generazione 1 diciamo della defy quindi come si chiamavano gli auto compounder no dove tu andavi a dare la liquidità ad esempio su bifi finance per dirne uno che ti farmava token lo rimette lo rivendeva ridava liquidità no tutte quelle operazioni lì ecco adesso non c'è più appunto l'emissione del token quindi fare il l'harvest vendere dare liquidità eccetera eccetera ma hai la gestione dinamica dell'esposizione quindi long o short anche se tu vuoi fare il delta neutral o comunque multi asset per andare a massimizzare cioè a minimizzare il rischio più che a massimizzare cioè massimizzare il rendimento ma minimizzando il rischio di volatilità e appunto se si riuscisse a integrarci dentro anche dei protocolli di insurance che io mi auguro davvero di vedere sviluppati molto nei prossimi anni perché sono fondamentali avremo anche la copertura del rischio cioè sarebbe veramente l'ideale no il un prodotto completo di asset management con la copertura del rischio che ti costerà un premio lo vai a tirare via ovviamente all'apy e un rendimento non dato artificialmente dal token che viene stampato in modo arbitrario dalla piattaforma stessa ma viene dato dall'utile cioè dagli utenti che pagano per usare la piattaforma no questo è il il futuro della defa il motivo per cui uniswap è sempre stato un prodotto superiore nonostante non abbia il suo token da dare ai liquidity provider è che tutti tradano su uniswap e quindi la gente paga fee per tradare i liquidity provider la vanno a incassare e quello è un modello sostenibile no è come se noi fossimo binance per dire no tu quando fai un trade su binance paghi lo 0 1 per cento di fee per lo spot ecco tu sei binance riceve il liquidity provider riceve quella fì cioè quello è il modello che sta in piedi a patto che ovviamente ci siano sufficienti volumi e che se non tra da nessuno non ci sono fee il liquidity provider dice ma io che ci sto a fare qua questo è un po il il discorso molto molto interessante e è solo nel mondo dei decks massi oppure ci sono anche altri protocolli di di questo tipo che che stanno emergendo allora guarda ci sono in realtà su arbitro in questo momento tantissimi progetti secondo me che stanno innovando parecchio il settore da tanti punti di vista diversi come dicevo prima le opzioni sono semplicemente una cosa che si sta creando adesso e che sta veramente sviluppando alla velocità della luce dopo ex ha per esempio rilasciato qualche mese fa appunto le atlantic option che essenzialmente permettono di fare una strategia straddle quindi sei essenzialmente neutro al mercato cioè guadagni dalla volatilità di mercato proprio sfruttando anche una logica di integrazione con il token glp c'è un altro protocollo abbastanza interessante si chiama y2k permette di scommettere sul peg o the peg di alcune stable coin questo quando dico scommessa è effettivamente così anche le opzioni lo sono in realtà la differenza sta proprio nell'utilizzatore c'è chi utilizza queste cose a scommesse quindi butta soldi a caso e se va bene bene se va male no ma in realtà possono essere utilizzati anche come edging come copertura da parte dei non solo degli utenti ma anche delle delle dao perché sempre di più si stanno creando tante dao che possono essere viste se non scammano ovviamente come dei fondi di investimento che devono creare delle strategie per tutelare se stesse per tutelare gli utenti e tutti questi protocolli stanno diciamo sviluppando bene oggi per esempio stavo studiando un protocollo che si chiama radiant se non mi sbaglio quello qua che è molto interessante perché è un money market che abbiamo già visto come ave però che permette di funzionare omni chain quindi io posso depositare per esempio ethereum su rete arbitrum e prendere un prestito su un'altra rete ok questa parte era già stata pensata da ave v3 ma utilizzava un meccanismo leggermente diverso mentre questo protocollo qua utilizza layer 0 che è appunto il protocollo alla base di si chiamava substrate forse cos'è che era stargate target bravo e utilizza praticamente il protocollo alla base di stargate per consentire che essenzialmente un protocollo e permette messaggistica tra diverse chain ok quindi grazie a questo potremmo prendere prestiti e fare debiti succe indifferenti il che è interessante proprio perché riduce un sacco di problemi il problema del bridge magari prima volevo farmare con nella rete avalanche ma avevo i fondi bloccati su rete tiri dovevo bloccare i fondi su ethereum prendere in prestito stable coin brigiarle sull'altra rete poi farmare così invece tagli il bridge di mezzo che è un problema tagli il brepto hand di mezzo che è un problema quindi piano piano si stanno risolvendo tanti piccoli problemi che vediamo nella dei file e arbitri non in questo sembra essere il l'epicentro della defa in questo momento anche trader giù passerà ad arbitrum è un altro che dovrebbe passare e camelot che è venuto fuori da da poco è una sorta di di dex a 360 gradi non voglio perdere tempo dietro a spiegare ogni progetto però dato un'occhiata ad arbitrum perché ha veramente tante innovazioni tanti progetti interessanti e ci stanno ci stanno lavorando ci stanno lavorando sopra che bomba che bomba c'è veramente da andare ad approfondire perché wow quanta roba la defa e tra l'altro in questo periodo che nessuno se la filano perché la defa e piace solo in bull market mentre adesso appunto non se la fila più nessuno perché si parla meno di di appunto come come mettere a rendita magari come ma anche al di là della rendita stessa no la cosa interessante della defa è proprio il servizio in sé anche il trade no io ricordo me lo ricorderò sempre quando si sia roma aveva detto in futuro i dex avranno più volumi dei checks e il trend sembra veramente quello no cioè alla fine il dex sembra una cavolata ma porca miseria cioè poter scambiare una coin un token con un altro in modo non custodial e no kyc e no dati e no niente senza intermediario cioè è una cosa non da poco cioè anche se è una cosa che sembra banale non dimentichiamoci che è veramente insomma qualcosa di 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 forte di potente quindi non so sarebbe sarebbe super super interessante vedere vedere avanti nel tempo noi vedere cosa svilupperanno perché poi i derivati lo sappiamo che piacciono no molti nelle cripto vogliono speculare quindi dateci sti derivati lo spot non basta più vogliono i perpetual vogliono la leva vogliono i futures perché fondamentalmente c'è come dici tu due categorie di utenti lo scommettitore che c'è sia sui checks che sui derivati che sullo spot perché uno non è che deve essere nelle cripto per forza per per scommettere uno si apre l'account sui toro e inizia andare long o short a caso anche sul forex e può tranquillamente andare a perdere tutto a fare per 10 ma insomma le cripto sembra che abbiano un po democratizzato ancora di più il mondo del gambling perché c'è questo sogno di comprare la gemma e fare per 10.000 senza neanche doversi sforzare a capire il long e lo short comunque benissimo massi guarda approfondiamo approfondisci bene questi protocolli così ne parliamo sempre di più e l'idea di fare il corso avanzato di defy mi stuzzica sempre sempre di più vedendo queste cose però con colloquio di non dimentichiamo il colloquio di ammissione perché altrimenti entra gente che facciamo una bella barriera d'ingresso quando vuoi lo possiamo lo possiamo fare il corso di defy avanzata volentierissimo figata pazzesca figata pazzesca io parteciperò nel frattempo sono le 19 e 47 mancano 13 minuti qua non stiamo cercando di non pensarci fino al momento x ma come dire il tempo scorre il tempo scorre allora chiudiamo la parentesi arbitrum super 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 interessante e direi dunque prima di andare tuffarci proprio nel nel funk e in ciò che ne sarà che quindi poi iniziamo a mettere i grafici a un minuto come di rigore no come di tradizione anche ovviamente cosa da non fare mai grafico un minuto ti fa solo del male ma noi così lo facciamo per proprio per divertimento giusto i cinque minuti pre funk io direi di fare una rapidissima carrellata di notizie perché ci sono un paio di cose degne di di nota e poi un piccolo approfondimento di analisi on chain su ho visto che è uscito l'ultimo report di glasno da me piacciono sempre tantissimo i loro i loro report sui dati on chain e andiamo a vedere qualcosa di rilevante insieme allora rapidissima carrellata di notizie che me la pupo io poi lascio la parola a matte se ha voglia per l'on chain matte massi insomma un po per uno non non spingete dunque prima notizia la fad su binance che l'avevamo iniziata accennare lunedì oggi sembra essersi un po tranquillizzata la situazione aspettate andiamo a vedere un po di dati che parlano meglio di mille parole fondamentalmente la fad su binance era stata originata si era originata da una notizia che in realtà non era mi sembrava essere già uscita un qualcosa di di già sentito no all'accusa del department of justice americano dove appunto paventavano una possibile indagine verso binance e i suoi principali attori per trasmissione di denaro senza ricenza riciclaggio di denaro insomma altri reati finanziari ed era roeuters sicchia non so come si pronuncia avevo già provato lunedì ma poi non ho imparato reuters dovrebbe essere che apparentemente era un po di parte come come diciamo media come media e si è schierato contro senza fare le dovute i dovuti approfondimenti e le le dovute ricerche anche dal punto di vista poi di binance stesso perché è stato cz dire questo ha detto questo è tutta fad perché noi in realtà siamo sempre in comunicazione con le autorità abbiamo addirittura un team dedicato a parlare con loro a fare intelligence a fare analisi insomma noi ci teniamo sempre a comportarci bene lo abbiamo sempre fatto non sono solo parole ma ci sono anche i fatti comunque tutto ciò in un clima no che a quello attuale di panico più totale dove basta veramente poco che tutti iniziano a scrivere prelevate tutto scappate tutto andate via di qua di là se siamo finiti siamo spacciati si è innescata una bank run no che di fatto è ciò che 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 accade quando c'è il termine che sta a indicare prelievi massivi sono stati prelevati infatti volevo proprio farvi vedere i dati per questo per vedere qualche numero che sono molto molto interessanti da vedere come dinamica dunque in realtà forse ce l'avevo già qua no vabbè allora andiamo tempo che mi si carica nansen eccoci allora tokens guardate tra l'altro i flussi dalle delle stable coin di ether già dagli exchange in generale sono sono sempre in downtrend questo è un po il trend attuale quello del prelievo dagli exchange ed è un trend che non ha accennato ancora a muoversi exchange flows eccoci qua diamo a dare un'occhiata exchanges in particolare allora andiamo a selezionare proprio binance che negli ultimi sette giorni ha avuto meno 1.9 miliardi di dollari di prelievi netti ma ieri erano molto di più perché nelle ultime 24 ore come vedete c'è stato un trend invertito dove ci sono stati 2 miliardi di depositi netti questo fa capire insomma che il c'è stato un prelievo di 4 miliardi all'incirca nel fare l'altro ieri e poi oggi diciamo sono un po' nell'ultime 24 ore si è un po' placata la situazione e le persone hanno ricominciato a depositare questo è un servizio premium però vi ricordo che se voi andate su portfoglio dot nansen dot ai slash entities mi pare che sia eccolo voi potete monitorare in tempo reale i cold wallet degli exchange che hanno fornito loro stessi quindi vedere in sostanza quanta liquidità gli rimane e questo è anche utile per capire no più o meno le dimensioni di una bank run perché 2 miliardi e mezzo 3 miliardi ad esempio per un exchange come bitmex per dirne uno è una quantità superiore alle loro riserve totali ma per binance che ha delle riserve mi pare di sui 60 miliardi come come quantità era una piccola percentuale quindi come sempre bisogna cercare di guardare i dati l'unica l'unica cosa che non mente sono i dati poi io comprendo sempre chi dice a questo punto dopo tutto quello che è successo cioè dopo quello che è successo con ftx che era una di quelle cose che ti fanno fare mio dio non è possibile assurdo tutto questo è assurdo tra l'altro leggendo i documenti della della causa che la sec ha fatto contro sam sono uscite fuori delle cose veramente curiose come il fatto che gli investitori cioè quelli che hanno acquistato equity durante i round di investimento effettivo in ftx anche loro sono stati vittima della backdoor che aveva messo sam che sostanzialmente andava a modificare gli audit che erano stati fatti perché avevano degli audit di terze parti che andavano proprio aspettate che vi faccio anche vedere perché l'aveva mi è rimasto impresso perché c'è un account che si chiama bitcoin su twitter che non credo sia il CEO di bitcoin ma aveva condiviso proprio quella frase lì aspettate che ve la mostro tac perdonate la lentezza ma mentre si stream ma ecco niente adesso sicuramente l'avrò perso mentre si stream ma quello che succede che rallenta tutto quanto allora bitcoin vediamo se me lo trova c'era proprio quel ritaglio no del documento legale eccolo che è stato presentato in tribunale dalla sec aspettate ce la facciamo ragazzi ce la fa parte la città del gladiatore che mi ha fatto impazzire eccolo qua vedete delle accounting firm che qua in realtà questo profilo cita ha taggato armanino e quest'altra poi non so se sono loro oppure no ammetto che non ho questa informazione ma dice gli investitori avevano cioè gli investitori si intende coloro che hanno dato han partecipato all'equity no di ftx quando investi in un'azienda dice io ti do 600 milioni e mi dai il 5 per cento dell'equity e c'erano vari investitori americani che è stato il motivo per cui poi la secca ha fatto la causa hanno avuto gli odite financial statements e questi financial statements non avevano tutte le informazioni no delle linee di credito di alamida di tutti i magheggi che hanno fatto proprio perché c'era quella famigerata backdoor che sam stesso aveva infilato lì cioè è veramente una cosa assurda una cosa veramente assurda il tutta questa storia comunque niente tutto questo per dire che ci sono i dati se volete andare ad approfondire poi quando ci sono i movimenti dagli exchange e dopo quello che è successo con ftx io non biasimo chi dice nel dubbio no io preferisco prelevare e al limite rideposito la prossima settimana non ci ha fatto nulla di male si lascia qualcosina di fidi prelievo ma vabbè e questo niente era la notizia adesso sembra essersi stabilizzata la situazione mancano quattro minuti al fomc quindi rapidissimamente vi dico anche che algorand è stata scelta da un progetto italiano in collaborazione con banca d'italia quindi algorand abbiamo capito che punta sull'adozione istituzionale nonostante purtroppo la sua tokenomics non sia delle migliori avevamo fatto un video a riguardo ma lato diciamo use cases no lato servizio punta su quello una piattaforma che permette l'erogazione di garanzie digitali fidei usioni e garanzie bancarie appunto assicurative sulla chain algorand stessa e se ne è parlato anche internazionalmente quindi è un bel risultato voi siete interessati ho visto un approfondimento su algorand quindi io sto cercando di contattare qualcuno per fare una live anche con loro vi terrò aggiornati ultima cosa volantissima anche questa emersa dai documenti qua sta saltando fuori di tutto no dai documenti sec e cftc contro sam la cftc nero su bianco su tali documenti ha scritto alcuni asset digitali sono commodity tra cui bitcoin ether e usdt quindi ether per la cftc è una commodity ovviamente la cftc fa il suo gioco è lei che regolamenta le commodity la sec ovviamente non sarà d'accordo ma almeno diciamo ognuno ha la sua posizione bene fine andiamo a fare a mettere immediatamente ragazzi il grafico a un minuto perché qua il tempo scorre ci siamo quasi quindi grafico a un minuto da una parte dall'altra andiamo a mettere twitter con delta one pronto a scattare tac e niente e godiamoci godiamoci questa corsa no godiamoci questa corsa dunque 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 i botti di capodanno anticipati esatto ragazzi altro che capodanno qui abbiamo il funk allora twitter imploderà twitter imploderà vediamo allora papam infatti come previsto facciamo un bel db db news no eccolo db news da una parte e delta one dall'altra e siamo sul pezzo ci vorrebbe il doppio monitor no o triplo così da una parte è pure il grafico vediamo udite udite tanto che succede qua calma è qua c'è vedo volatilità nell'aria stiamo calmini stiamo almini nell'intorno poi del del momento il che da di sol orcocane ragazzi mi si è buccato il monitor si è miseriaccia miseriaccia allora ha bucato lo schermo ma bucato lo schermo preferivo se me lo bucava sopra ma me l'ha bucato sotto eva eccoci qua walter bloomberg sempre sul pezzissimo vediamo meno cinque minuti qua si mette si mette fomo si mette fomo e inutile dire che cercare di tradare l'evento no di solito porta a questo risultato quindi non so se se può convenire o no come come procedura è perché diciamo che c'è una componente di aleatorietà non indifferente cercare di prendere posizione da una parte o dall'altra si potrebbe sfruttare un po forse la volatilità ma il rischio liquidazione se si cerca di prendere posizione direi che è notevole e quindi allacciamo le cinture siamo pronti siamo pronti siete siete tutti carichi siete tutti carichi lo short è iniziato acqua vi vedo vi vedo sai quanti stop loss ha triggerato sto dump direi proprio di sì lo show di copertura lo avevi su ftx guarda non mi ci fare ripensare che la ferita ancora aperta per cortesia che mi è saltato pure lo show di copertura che che era l'unica cosa in profitto dell'ultimo anno ma che dire lasciamo stare guardate stendiamo un velo pietoso su questo e allora 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 qua che succede dovrebbe essere l'ora è vediamo 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 se siete più veloci voi 50 qualcuno ha detto 50 il grafico più mostruoso mai visto mai stato così pazzo esatto 50 ok si è mantenuto come official 50 ok attenzione è uscito anche il plot zero edge bitcoin magazine è uscito anche il plot mi sa il grafico qui dice medium forecast 5.1 nel 2023 4.1 nel 2024 è vero è vero è vero ce l'ho qui davanti vuoi che te lo condivido o ma guarda se mi mandi il link così lo lo metto lo metto in condivisione lo commentiamo insieme 50 special arrivato bomba 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 grande powell grande powell adesso vediamo come reagisce il mercato che poi tra oggi e domani si assorbirà un po la notizia al moe ora allora 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 vediamolo un po parapapam allora eccolo coppia incolla sicuro è che posso aprirlo ma è questo dove non me lo apre cosa mai mandato matte e fishing questo è fino a no eccolo ok no 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 scorre scori pure dovrebbe essere la quarta pagina questo è proprio il il pdf della del funk allora un po di dati si è riassunto delle proiezioni il terzo attacco sui 18.000 in in quattro minuti proprio e non benissimo e non bene ma cioè nel senso una cosa si aspettavano come mai questa reazione così catastrofica ma forse proprio dato da dal documento ha condiviso matte rispetto anche a quella abbiamo visto prima già fa vedere come l'aspettativa 2023 diventa superiore a 5 quindi aspetta che provo provo ad affiancarli entrambi se ci riesco bam e bam allora a sinistra abbiamo quello precedente di settembre e a destra quello attuale allora che cosa si nota si uno spostamento a rialzo effettivamente delle stime o no aspetta fammi vedere che visto da qua non ci vedo una mazza ad essere sincero no mi è tornato su sì per il 2024 per il 2023 sostanzialmente c'è una c'è una previsione di maggior di maggior aggressività rispetto rispetto a settembre perché giustamente adesso non vogliono assolutamente che succeda come a Volker che quindi l'inflazione per un loro rallentamento gli ritorni indietro e non riescono più a controllarla nuovamente quindi debbano di nuovo rialzare i tassi quindi preferiscono essere più aggressivi per non dover poi correggere e avere situazioni aspettate di mantenere diciamo l'atteggiamento che stanno tenendo magari anche per il 2023 con un possibile aumento dei tassi ma probabilmente gli terranno alti per il 2023 senza rialzarli ancora ok sì non penso che andranno ancora più su anche perché immagino che poi l'inflazione andrà degradandosi nel corso del prossimo anno vedremo effettivamente dei risultati di questa politica economica restrittiva soprattutto con delle previsioni di crescita in calo e un livello dei tassi molto alto questo peggiora ulteriormente il degradamento della domanda infatti anche questa reazione da parte di Bitcoin e adesso fatemi controllare un attimo anche il Nasdaq gli altri ass intanto io faccio faccio una parentesi faccio intanto una parentesi mentre guardi i dati che vedo che chiedono tutti i tutorial sulla lettura di questi pallini che effettivamente ne abbiamo parlato all'inizio della live ma questo grafico diciamo è la cosa più importante di oggi più dell'aumento dei tassi che era un po' scontato e praticamente mostra il primo che vedete a sinistra è un'immagine salvata ed è gol della Francia nel frattempo di ma si è ormai qua siamo al Bar Sport fantastico Teo Hernandez benissimo grande io tenevo per il Marocco stasera a dire la verità però vabbè fa lo stesso e dicevo che quello a sinistra mostra cioè praticamente ogni puntino è il voto nel target dei tassi di interesse appunto dei FOMC di un partecipante al FOMC quindi sono tutti i vari representative della Fed che partecipano a queste decisioni di politica monetaria e esprimono il loro giudizio il loro voto su ipotesi perché sono ipotesi come vedete si va fino al 2025 sulla distribuzione dei tassi di interesse nei prossimi anni e quindi si va a guardare la mediana cioè il valore mediano appunto della distribuzione di questi voti ed è diciamo il target più probabilmente accettato di tassi di interesse in quello specifico anno e a sinistra vedete in quello di settembre quindi nel vecchio grafico di questo tipo vediamo come la distribuzione è tra 4,5 e 5 al momento ci troviamo lo avevamo visto prima non mi ricordo più aspetta che lo vado a rivedere da quanto eravamo al momento siamo sotto il 4 ora con questo rialzo siamo tra il 4,25 e il 4,5 fantastico 4,25 e 4,5 e la stima era di arrivare al massimo fino a 5 vedete le votazioni dei partecipanti al FOMC erano tra appunto il 4,5 e il 5 all'incirca nell'anno 2023 adesso se guardate l'ultimo grafico rilasciato poco fa si sono spostati in alto quindi in sostanza i partecipanti al FOMC i representatives della Fed vedono probabile un rialzo ulteriore di tassi più marcato nel 2023 nello specifico anche possibile arrivare a 5,5 quindi più rialzi in sostanza sul piatto e questo va a rafforzare un po' il dollaro a scapito dei mercati maggiormente a rischio come appunto le cripto o l'azionario hai dato un'occhiata anche ai mercati legacy come sono messi, come hanno reagito a questo? immagino che abbiano reagito anche loro inciampando un po' certo, sono loro che l'hanno fatto inciampare noi probabilmente quindi sì 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 ma infatti io immagino che anche per questa fine 2022 inizio 2023, primo semestre addirittura del 2023 manterranno comunque una comunicazione una trasparenza sul voler frenare gli animal spirit quindi le persone che effettivamente ingenuamente con ottimismo ripartono e si rimettono al risk on anche in una situazione in cui non è il caso di mettersi al risk on e vorranno frenarli perché devono rallentare la ricchezza se le persone investono negli asset volatili e guadagnano dai profitti al rialzo che questi asset fanno questi profitti vengono poi riversati sotto forma di domanda all'interno del mercato e questo non deve assolutamente succedere quindi presumo che il loro interesse sarà proprio questo di mantenere ma poi non ci sono neanche le previsioni a livello di utili per poter generare questa ricchezza proprio per la stretta sul mercato della moneta che la Fed sta avendo all'interno dell'economia non si può investire non si può aumentare il proprio comparto produttivo se non si riesce ad accedere facilmente al credito certo, certo, certo poi ricordiamo anche come giustamente qualcuno fa notare che alle otto e mezza c'è la conferenza stampa di Powell quindi lì magari esce qualche informazione in più ma a questo punto io mi aspetto che andrà a ripetere banalmente quello che possiamo già leggere da questo grafico quindi cioè non da questo dal grafico di Bitcoin a un minuto da questo grafico quindi l'intenzione in sostanza di andare vedete 2022 ecco si chiude con un 4,25 4,5 questi pallini qua sono tutti allineati perché di fatto dicembre è questo FOMC 2023 come vedete 5,5 e mezzo cioè 5,25 5,5 e qualcuno anche fino a 5,75 qualcuno anche 4,75 ma l'intervallo comunque si è alzato rispetto alle ultime proiezioni e questo comunque fa capire l'intenzione da parte della Fed di voler spingere ancora un po' e della necessità di andare a mantenere una politica monetaria restrittiva per maggior tempo andiamo a vedere se si è aggiornato qualcosa nel frattempo anche qua perché anche dunque anche su questo tool faceva vedere le distribuzioni probabilistiche future il prossimo FOMC tra l'altro è tra due mesi quando è che è a fine gennaio adesso ci devo guardare allora probabilities eccolo vedete abbiamo un ecco 4,75,500 per il 2023 quindi assolutamente in linea con cioè in realtà anche di più qui qualcuno dice anche 5,25,5,50 quindi questo non so se non sono ancora aggiornati i dati forse non lo so c'è da vedere ma aspettavo un maggior peso ecco in quest'area tuttavia ecco andiamo a seguire anche questo questo magari lo vediamo meglio domani perché immagino che adesso sarà sovraccaricato di utenti e di dati e la prossima il prossimo FOMC è il 31 gennaio o il primo febbraio uno febbraio eccolo qua uno febbraio 2023 uno febbraio 2023 e vabbè adesso immagino non ci siano abbastanza dati ancora per essendo appena appena terminato l'ultimo non c'è ancora neanche stata la conferenza stampa ma stiamo un po' a vedere comunque niente fondamentalmente questa è la ragione per cui il mercato ha reagito in questo modo se comunque non è solo appunto lo 0,5 o un diverso rialzo con questo FOMC ma è anche appunto il grafico che va a vedere i target futuri meglio così un bear market più lungo per costruire qualcuno dice eh ragazzi ma d'altronde insomma il 2023 potrebbe essere un anno interessante per chi ha intenzione davvero di studiare e costruire e chi non ha fretta l'importante è sempre non farsi prendere dalla fretta e non fare il passo più lungo della gamba ormai voi tre aspettate le 20 e 30 ma ragazzi non ci saranno particolari cose nuove perché ripeteranno queste stelle vedrete facciamo una predizione di cosa dice Powell allora dirà l'inflazione è sotto controllo però ci vuole ancora una politica aggressiva il mercato del lavoro è forte perché di fatto i non farming payroll sono andati bene dirà che c'è bisogno che il rialzo dei tassi potrebbe avere un target superiore a quanto previsto segnatevele a queste cose perché vedrete che poi le dice l'America già giocando alla SNAI della Fed esatto 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 praticamente dirà questo dirà siamo forti l'inflazione la riusciamo a controllare ma serve comunque una politica monetaria ancora aggressiva e magari anche più di quanto ci aspettavamo il palco a Powell Talk adesso telefono alla Fed e gli dico ragazzi ma potete anche non parlare ciò pensato l'ho fatta io la vostra conferenza stava esatto breve riassunto esatto tanto è sempre così basta che Bitcoin scenda ancora che sono in short da un po' è bravo 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 mi raccomando state attenti con le posizioni perché qua come vedete la liquidazione è un attimo che viene fuori siamo in follia totale vediamo su un time frame un attimino più sensato che cosa abbiamo bisogna fare attenzione qua se dovessimo riassorbire i 17.600 perché si invaliderebbe il possibile breakout e avremmo una situazione poi di rientro nel range quindi questo diventerebbe un falso movimento e in un contesto comunque dove anche i time frame maggiori sono fortemente ribassisti avere un falso movimento in fuoriuscita rialzo diciamo che è una cosa poco piacevole però diciamo che l'abbiamo visto qualche volta nelle lateralizzazioni dell'ultimo anno sì sì esatto 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 questo è questo è ragazzi io direi che ci possiamo anche salutare che se no poi quando mi vedete su youtube mi dite oh mio dio un'ora e mezza che fa che chi è che c'ha sto tempo di starti a filare per così tanto e ci avete pure ragione vi dirò le altcoin non ho visto come hanno reagito un bagno di sangue ovviamente neanche da dire bitcoin dominance in aumento dov'è qua sì la bitcoin dominance mi sta piacendo come si sta muovendo la stavo osservando in questi giorni è in aumento insomma a 41 e mezzo il trend è quello di essere ripartita però quella che prende anche le stable coin disegna un grafico leggermente diverso ma comunque in aumento perché così qua ho messo la dominance di bitcoin più usdt e usdc per evitare che diciamo la bitcoin dominance sia un po' alterata drogata dal flusso che in realtà va verso le stable coin e non verso le altcoin esatto ed ha un risultato leggermente diverso ho fatto anche quello che tira via anche ethereum quindi bitcoin più usdt più usdc più ether e che a parte che è rumorosissima quindi forse ha senso guardarla sul settimanale per quale motivo questo in sostanza è il grafico inverso perché è la dominance delle altre non delle altcoin ma il grafico inverso della forza delle altcoin minori quindi altcoin meno ethereum quindi più questo aumenta più le altcoin sono deboli rispetto a ethereum a bitcoin e alle stable coin così un po' di dati in più potete farlo anche voi se vi interessa su tradingview con la stringa è questa btc.d più usdt.d più usdc.d più eth.d basta invio e avete il graficozzo vedo che non ci sono altcoin che soffrono più di altre soffrono tutte più o meno alla stessa maniera tranne tron che tron è contrarian rispetto alle altre altcoin ho visto tron bitcoin è un edge praticamente al mercato delle altcoin e Solana c'è un motivo per cui Solana è contrarian vabbè che ultimamente ha un po' deboluccia come struttura dopo è dopo Alamida FTX in effetti è un po' è un attimino dopo Solana c'è un po' da capire il suo destino ecco e niente ragazzi questo è Solana è una delle poche alt forti in queste ore sì esatto in queste ore perché se vai a mettere un time frame un po' più elevato ti si rompe di nuovo lo schermo a ribasso e ragazzi direi che ci possiamo anche salutare cosa ne dite così poi ci aggiorniamo su Telegram invece per la conferenza stampa di Powell ma ragazzi tanto ve l'ho già anticipata cosa la seguite a fare cosa la seguite a fare e di nuovo grazie ragazzi grazie Matte Massi Matte avevi qualcosa da aggiungere che ti vedo frenere sì no in realtà era solo per ricordare visto che l'altra volta ha funzionato molto il reminder in live che domani abbiamo un altro appuntamento molto molto interessante sul canale Discord io e Massi ospiteremo un ospite speciale che ci parlerà di un progetto DeFi uno dei colossi della DeFi su cui si sta creando tutto un ecosistema molto molto interessante che è Synthetix quindi domani non mancate ci vediamo lì preparate le domande che insomma l'ospite è anche una bravissima persona aperto disponibile insomma vedrete che non vi non vi deluderemo bravi bravi sì ne approfitto anch'io per ricordarvelo vi ricordo che ogni giovedì tra l'altro sul nostro Discord di cui insomma trovate il link in descrizione in giro dappertutto ci sono degli appuntamenti di approfondimento proprio per dare l'opportunità a tutti di studiare sono gratuiti sono aperti veramente a tutti sono delle cose che meriterebbero di essere a pagamento secondo me per il livello che sono perché ci sono matte massi lì con voi a disposizione e in più a volte degli ospiti era venuto Blacky l'ultima volta domani appunto c'è un ragazzo di Synthetix al quale si può fare le domande ci si mette lì si può alzare la mano e parlare o scrivere in chat e si va ad approfondire un topic specifico quindi vi consiglio di entrare nel server Discord ripeto tutto gratuito avete a disposizione la community e matte massi che sono lì anche loro e potete tranquillamente partecipare come, quando, dove, vi va è aperto a tutti in piena inclusività che è un po' l'ethos della nostra community quindi vi aspettiamo domani che se riesco voglio ascoltarmelo anch'io perché sono super interessato e anche le prossime settimane mi raccomando non perdetevi lì non mancate volevo fare un'ultima scillata ragazzi perdonatemi perché mi ero mi ero dimenticato ormai è tardi perché su BitCashback oggi c'è il Surprise Day che è il giorno con il più 50% di cashback su tutto e fare acquisti online e ottenere cashback in Bitcoin in bear market cioè secondo me è una figata pazzesca soprattutto considerando che su BitCashback non devi fare depositi non devi lasciare dati personali non devi pagare nulla tu entri su BitCashback vai sullo shop in questione fai l'acquisto lì e poi ti pupi il cashback in Bitcoin su BitCashback e ripeto solo per oggi cioè in realtà ci sono i Surprise Day due volte al mese poi c'è una settimana al mese di promo week che c'è il più 30% su una categoria poi c'è una settimana al mese di token week che si ottengono il quadruplo dei token di solito se non ricordo male ogni euro di cashback ti dà 5 token in questo caso quindi te ne darà 20 e poi i token si possono convertire come potete vedere dal vostro profilo non sono crypto non sono cose del genere sono token che si ottengono sempre sono punti fedeltà punti fragola li potete convertire in premi in euro oppure in bonus sul cashback sui prossimi acquisti e i bonus sul cashback sono cumulabili tra l'altro e fino al più 100% quindi ragazzi che dire ripeto non c'è da depositare nulla da pagare nulla il profilo è un'email usa e getta un nickname a vostra scelta zero dati personali cashback in bitcoin che potete prelevare al raggiungimento di 10 euro le gas fee sono a carico nostro perché no tutto lì basta tutto qua tutto qua bene detto questo la mia scillata l'ho fatta io vi saluto buona partita a tutti per chi la guarderà palo di giro benissimo buona conferenza stampa di powell che la seguiremo insieme magari vi spammo qualche tweet dei nostri magnifici 2 delta 1 e db su telegram seguitemi su telegram così recappiamoli davvero buona serata a tutti fate i bravi non prendete posizioni di gen ci rivediamo ci rivediamo domani al meetup di binance per chi c'è dal vivo mentre venerdì live per chi non c'è ci rivediamo qua sul pezzissimo sempre e comunque amici buona serata e alla prossima ciao ragazzi